Amici di Star Casino Sport, ben ritrovati, è tornato il nostro angolo Granata. Oggi il mio ospite sarà la Sana Koulibaly. Sì, è difficile, perché fuori Italia, tutti parlavano di questo, la Serie A è molto difficile, ma soprattutto per me, i primi due mesi, è stato un challenge molto difficile per me, ma dopo tutto è ok. E tu sei uno dei veterani di Salernitana, prima di arrivare il Presidente Yervolino, ha parlato sull'era straordinaria fitta l'anno scorso. Il nuovo Presidente, abbiamo visto tantissimi cambiamenti, e io voglio continuare a cambiare ancora. E cosa sull'emozione del primo gol in Granata, con Cremonese? E' stato fantastico, perché la ultima settimana mi senti un bel gol.